Ben ritrovati nel salotto di chiacchiere e caffè. Per questa seconda parte è tornato a trovarci il professor Umberto Vincenti, docente dell'Università degli Studi di Padova, perché professore avevamo lasciato un discorso in sospeso, ovvero quello sul suo libro La Repubblica Virtuosa, una proposta per l'Italia. Abbiamo ancora diversi aspetti di questo libro da affrontare, quindi io ho deciso di reinvitarla, quindi grazie per aver accettato nuovamente il mio invito. Grazie a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, ritornando un attimino a questo libro, uno dei capitoli che ci mancava era quello inerente al voto, capitolo molto molto interessante. Lei scrive, uno dei difetti della democrazia italiana e di altre ancora, è di non preparare al voto gli elettori, corredandoli di tutte quelle cognizioni indispensabili a una deliberazione informata. Se l'elettore è costretto all'ignoranza, è quasi come se fosse spropriato del potere di scelta, ed è probabile che a molti uomini della politica non dispiaccia di contare sul cosiddetto voto dell'asino. Beh, qui non è stato proprio molto tenero, eh? No, ma credo che sia così. È probabilmente uno dei difetti della democrazia in sé, ed è un difetto a cui si può ovviare, laddove ci sia la buona volontà, diciamo, di chi ambisce a governare e la leale collaborazione degli organi di informazione. E poi laddove il sistema sia improntato al principio della più assoluta trasparenza. Indubbiamente la democrazia funziona se chi va a votare ha una sufficiente informazione in merito solo alla qualità della persona che vota. Cosa che oggi noi, stante la legge elettorale vigente in Italia, non possiamo comunque, diciamo, valutare, ma deve essere sufficientemente informato per valutare la bontà o, diciamo, razionalmente il gradimento della proposta politica che quella persona o quel gruppo politico intendono portare avanti. Ora, l'accesso all'informazione non è poi così facile. Non è facile in assoluto perché ovviamente gli organi di informazione sono sempre di parte e quindi per farsi un'idea occorrerebbe avere una informazione, come posso dire, multilaterale, il che richiede tempo e anche, penso, richiede, diciamo, una certa dimestichezza alla ricerca. È oggi un'operazione possibile perché abbiamo accesso a tutta una serie di mass media, a cominciare dall'internet, ma poi a ricercare le informazioni, diciamo, attendibili ci vuole pazienza, tempo e anche una certa abitudine, il che ovviamente non si può verificare per tutti. Sarebbe invece dovere delle istituzioni curare una comunicazione istituzionale corretta. D'altra parte la politica ai vari livelli si fa soprattutto con gli slogan. In una situazione in cui l'informazione non è compiuta, lo slogan aiuta e orienta, ma si capisce che questa è un'informazione molto parziale o, se vogliamo, anche una finta informazione e così il sistema funziona male. In altre parole, non è pensabile che una democrazia sia compiuta se non c'è anche un'adeguata educazione alla democrazia e l'educazione suppone ovviamente una cultura e quindi il possesso di tutta una serie di informazioni che, ripeto, le istituzioni hanno il dovere di aprontare. È dai tempi di Kant, cioè del Settecento, che si auspica che si apra uno spazio pubblico di discussione, la cui massima generale è questa. Chi parla e chi prende la parola, chi si presenta, chi fa la proposta politica deve dire il vero e non può tacere qualcosa che inerisce la proposta politica che intende portare avanti, perché allora vuol dire che questa reticenza è funzionale a interessi di parte e dunque è cattiva cosa perché danneggia gli interessi della collettività. Il fatto è che molto spesso quando i politici parlano non dicono tutto o non dicono il vero e dunque quel principio di trasparenza auspicato da Kant è molto poco realizzato e i segreti del comando, del potere rimangono tali, ma sono depercabili perché in una democrazia occorre che sia tutto massimamente trasparente. Quindi il voto dell'asino fa estremamente comodo. Il voto dell'asino fa estremamente comodo perché se l'asino cessa di essere tale potrebbe votare per un'altra corrente o un altro gruppo e quindi è più facile riuscire a acquisire il consenso attraverso gli slogan, del resto per poter innalzare il livello occorre che chi governa, chi si presenta sia a sua volta sufficientemente acculturato, il che in linea di massima non si verifica, cioè non abbiamo una classe politica, fatte le debite e eccezioni, viva Dio, che è sufficientemente acculturata essa stessa. È una classe politica allevata attraverso slogan e che propina slogan. Lei non è stato tenero nel suo discorso di prima con gli organi di informazione proprio per nulla che secondo lei sono diciamo un po' colpevoli di mantenere nascosti gli arcana che ci sono dietro e ci ha anche portato una slide a riguardo che adesso chiedo gentilmente se possiamo proiettarla tanto per commentarla insieme a lei. Quindi noi organi di informazione siamo un po' colpevoli. Direi che occorre diciamo distinguere, questa è la slide che è una slide che ha diciamo un autore illustrissimo come Hannah Arendt, Verità e politica e qui Hannah Arendt come i telespettatori possono leggere pone in luce una delle caratteristiche diciamo della dialettica politica occidentale, di quelle caratteristiche che ci dovrebbero essere e che purtroppo non sempre ci sono. E cioè abbiamo il dovere tutti e in particolare coloro che si propongono per il governo della polis, cioè della città o dello Stato di dire ciò che è. Ecco in greco addirittura risulta come autore di questa frase lo storico erodoto, quindi siamo molto indietro nel tempo, nell'antica Grecia, legain ta è un ta, cioè dire ciò che è. Non è possibile neanche immaginare una permanenza, una perseveranza nell'esistenza senza degli uomini disposti ad attestare ciò che è e che, mi è andata via la slide, e che appare loro perché insomma si capisce. È quello che dicevamo prima, gli organi di informazione in una democrazia compiuta hanno il dovere di essere onesti nella trasmissione delle informazioni. Questa onestà è rara e quello che però diciamo irrita è che è tanto più rara quanto più si sale diciamo nel livello culturale degli organi che curano l'informazione e l'acculturamento. È proprio nei pianeti dell'alta cultura e quindi penso alle testate giornalistiche più autorevoli e soprattutto alle case editrici più importanti che si nota come diciamo un imbuto. Solo certe idee, solo certi autori hanno diritto di accesso, cioè ai livelli diciamo più bassi che poi sono quelli che sono accessibili ai cittadini o al cittadino comune, vi è pluralismo, anche se il pluralismo è il pluralismo dello slogan o dell'insulto, ma laddove c'è la dialettica delle idee che comunque poi condiziona inevitabilmente o determina l'assetto. Ecco in Italia noi abbiamo tutt'altro che un pluralismo ma direi che abbiamo diciamo una scelta oculata di idee e di autori che si accreditano ecco come gli unici titolari della cultura istituzionale nel nostro paese per il presente e soprattutto per il futuro. Basta prendere i cataloghi delle grandi case editrici, non faccio nomi perché le grandi case editrici sono note a tutti e vi assicuro che l'accesso è riservato solo a certe persone che scrivono poi vorrei dire sempre le stesse cose. C'è un oscuro signore che governa. Non è che lei abbia delineato un quadro molto roseo? No, ma io credo che sia così. Cioè la mia esperienza mi porta a dire che è così. Lei insegna questo? Sì, che è così. Altro punto su cui avevamo già accennato la scorsa volta, però vorrei tornare un attimo, riguarda un po' il tarlo della rielezione, nel senso che più volte lei nel libro spiega che chi arriva al potere difficilmente lo cede. E come lei scrive? Perché come scrive Dionigi Delicarnasso, il dover cedere il potere inderogabilmente alla scadenza del mandato tiene a freno le indoli superbe e non permette che i costumi siano corrotti dai poteri. Ecco, Dionigi Delicarnasso è uno storico dell'antichità, ma il pensiero è comune diciamo alla cultura antica e poi anche alla cultura moderna. È direi un dato di fatto che chi ha una cosa, una bella cosa e Machiavelli diceva che in sostanza gli uomini fanno le cose o per il potere o per le donne, ecco non vogliono rinunciare a questa cosa. E quindi è una considerazione diciamo umana che parte dalla riflessione sulla natura dell'uomo e su come l'uomo poi opera. È una considerazione sulla natura umana che l'uomo al potere non lo vuole lasciare. Oppure il cincinnato di cui parla Tito Livio, storico padovano, è alquanto raro. O Washington di cui si diceva la volta scorsa. E tuttavia se gli uomini non cedono, perché è la indole di tutti, probabilmente vorrei dire se anche noi fossimo al potere ci dispiacerebbe lasciarlo, allora occorre evidentemente che ci siano delle regole e questo in fondo poi la democrazia postula. Non solo che ci siano delle elezioni, perché si può essere rieletti attraverso i circuiti diciamo che poi governano il voto democratico. Allora non bastano le elezioni, occorre un corredo di regole che favorisca effettivamente l'alternanza e dunque eviti quello che diciamo Dionigi di Alicarnasso molto bene diciamo ci additava. Perché se c'è un ricambio allora l'uomo non insuperbisce, non ha il tempo nemmeno per radicarsi nel potere e per radicare i suoi dentro il potere. Il che diciamo è un meccanismo, il radicamento nel potere di una persona, di un gruppo, è un meccanismo che facilmente può portare alla corruzione e alla corruzione della democrazia e poi alla corruzione così come noi comunemente la intendiamo e cioè la corruzione è evidentemente quell'azione anche pubblica che è contraria al bene comune o all'interesse generale ma che favorisce soltanto il bene di pochi o l'interesse particolare e questo in una democrazia, se la democrazia è il potere del popolo, è una contraddizione in termini. Quindi occorrono delle regole che del resto non sono state diciamo proposte solo da Dionigi di Alicarnasso ma hanno una tradizione giuridica che ha 2000 anni e che però diciamo la nostra Costituzione e riprendiamo quindi facciamo il ponte con la volta scorsa pare non aver considerato. Ecco questo mi porta a fare una riflessione che spesso proprio il voler a tutti i costi essere rieletti, questa bramosia di tenersi fisso il posto può portare la classe politica a non adottare misure magari necessarie però che sarebbero in qualche modo impopolari e che potrebbero pregiudicare una loro rielezione, è così? È o può essere così, è evidente che se uno mira ad essere rieletto e rieletto indefinitamente in Italia, ecco questo dobbiamo dire, abbiamo ottimi esempi proprio perché mancano le regole e poi l'italiano ha un certo carattere, ecco se le cose avvengono in questo modo sia quello che lei appena ha detto, ecco si verifica un fenomeno di questo genere e cioè i politici proprio perché vogliono essere rieletti evitano di assumere delle decisioni impopolari e quello che abbiamo visto poi in questi mesi con il governo del professor Monti, occorrono determinate misure, i politici e i gruppi politici non se la sentono di assumerle perché hanno evidentemente da conquistare un consenso popolare e quindi hanno delegato a un tecnico che si è presentato come una specie di dittatore, il quale però a mio avviso dopo sei mesi mi pare di governo si è rivelato meno tecnico di quello che sembrava perché quelle misure sono state prese fino a un certo punto perché evidentemente prendere le misure che in realtà credo molti ritengono necessarie avrebbe determinato diciamo la caduta dello stesso Monti e forse anche Monti sta incominciando ad apprezzare. è certo perché un tecnico se ha un progetto di risanamento e se il progetto di risanamento prevede l'adozione di alcune misure se non riesce ad assumere quelle misure perché non ha il consenso parlamentare proprio perché è tecnico e per non contraddire la sua tecnica il tecnico è colui che deve conseguire un risultato si dovrebbe dimettere, si dovrebbe dimettere per essere coerente con se stesso e con la vernice di tecnocrazia che si è dato e che ha conclamato. Ecco, mi pare di aver detto abbastanza, mi attenderei le dimissioni. Allora proseguiamo con un altro estratto dal suo libro. La Costituzione del 48 ed il sistema normativo in genere non sono stati in grado di interdire o di interdire efficacemente il radicarsi del fenomeno della corruzione nel mondo della politica, della pubblica amministrazione, della finanza. La Costituzione dovrebbe essere a mio avviso riscritta in buona parte, non può essere riscritta così come si è pensato negli ultimi anni, come ha tentato il precedente governo, ma a questo occorrerebbe, e il clima sociopolitico forse sarebbe anche favorevole, occorrerebbe una nuova Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente evidentemente dovrebbe prendere in mano, espressione del popolo, tutto il progetto di Costituzione e rivederlo. I correttivi, uno lo abbiamo evidentemente già sufficientemente indicato. Prendiamo spunto dalla tradizione repubblicana e introduciamo dunque il divieto del terzo mandato, quantomeno per le cariche più alte, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, ma anche a livello di amministrazione cittadina, sindaco oppure regionale, Presidente di regione. Per quanto concerne l'amministrazione cittadina è vero che vi è il divieto del terzo mandato, però è anche vero, come dicevamo prima, che è possibile ripresentarsi saltando un turno e questo non va bene, perché grazie a Dio la vita è sufficientemente lunga, per cui uno saltando un turno può ripresentarsi e conciò in sostanza essere al governo di una città anche per 30 anni. Questo non è accettabile, non è democratico, non è conforme alla Costituzione democratica, perché come ci è stato detto ed è così, non bastano le elezioni, occorrono delle regole. Quindi questo è un primo correttivo. Un altro correttivo più di fondo sarebbe quello di dare meno rilievo ai partiti e più rilievo al popolo. La sovranità popolare è fondante della Repubblica, anche della nostra, e dopo tuttavia incanalata attraverso forme procedurali, sicché sembra a un certo momento che la protagonista più che la sovranità popolare sia la sovranità delle forme e queste forme sono dominate dai partiti. Teniamo presente che la nostra è stata la prima Costituzione che ha dato ingresso nell'ambito del tessuto costituzionale ai partiti e poi nella prassi costituzionale, come tutti sappiamo, i partiti si sono enormemente potenziati e la Repubblica è diventata una Repubblica dei partiti e quindi il fenomeno della partitocrazia. Questo è legato a ragioni storiche, i partiti avevano, diciamo, si erano riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale, i partiti avevano voluto l'Assemblea Costituente e dunque i partiti avevano dominato l'Assemblea Costituente. Vi era una certa idea di partito che poi era cara ai due maggiori partiti che volevano essere delle strutture forti e degli organismi popolari accreditati e monopolisti della offerta e della proposta politica. Però se noi andiamo a vedere in altri paesi, pensiamo ancora agli Stati Uniti, c'è un'educazione alla discussione democratica che noi non abbiamo. Basta andare su YouTube e si vedono le discussioni accese che ci sono state qualche anno fa a proposito della proposta portata avanti dal Presidente Obama di riforma sanitaria. Oppure anche a livello statale, di stati federali, è molto bella un video in cui si vede il governatore della Georgia, se non sbaglio, Chris Christie, che in manica di camicia in uno di quegli incontri che fanno regolarmente negli Stati Uniti community meetings, town hall meetings, cioè in sostanza riunioni aperte a tutti dove intervengono i cittadini. Allora, alla presenza dei cittadini e cittadini molto arrabbiati e molto competitivi dal punto di vista dialettico, il governatore di uno Stato come la Georgia, che è molto di più, ecco per esempio del governatore del Veneto, che poi è il Presidente, il governatore ce lo siamo inventati o della Lombardia, accetta di discutere bevendo una bottiglietta senza nessun formalismo, perché il formalismo evidentemente è anche deprecabile da vari punti di vista, accetta di discutere con il pubblico, in particolare si vede un insegnante, cioè un insegnante come tanti, come posso essere anch'io, che discute animatamente e anche abbastanza severamente contro e contro il governatore, rimproviandogli di aver tagliato eccessivamente le spese per l'istruzione a livello statale. Quindi dei correttivi che facciano sì che il popolo possa maggiormente esprimere la propria volontà. Poi ci sono delle regole, faccio solo un esempio, che hanno dato cattiva prova e che non sono affatto conformi alla tradizione del repubblicanesimo. C'è un articolo, l'articolo 66 della Costituzione che dice che spetta a ciascuna delle Camere, quindi la Camera del Senato o la Camera dei Deputati, decidere definitivamente sulle questioni inerenti l'inellegibilità o l'incompatibilità degli appartenenti, quindi dei deputati e dei senatori. Questo ha determinato il fenomeno deterioro del doppio incarico che non è certo una bella pagina e che è quantomeno indice di concentrazione del potere in sé pericolosa. Faccio solo questo esempio. Nel testo unico del 1957 è previsto testualmente, espressamente, questo che chi sia sindaco di una città con più di 20.000 abitanti o presidente di giunta provinciale non possa presentarsi alle elezioni in Parlamento, perché vi è una ineleggibilità. Però non è prevista l'ipotesi inversa, cioè di chi parlamentare si presenti a sindaco o a presidio. E di fatti questo è accaduto anche nella legislatura in corso. Abbiamo vari deputati e senatori che hanno il doppio mandato. La Corte Costituzionale alla fine dell'anno scorso è intervenuta dicendo che no, occorre interpretare la lacuna, perché si prevede soltanto il divieto nel caso in cui fosse il sindaco a presentarsi e non il parlamentare a presentarsi a sindaco, interpretare la lacuna in maniera tale da costruire una disciplina uniforme. Quindi dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede finisco. La Corte Costituzionale ha detto questo a novembre, un autorevolissimo giudice della Corte mi ha riferito non più di due mesi fa che tuttavia la giunta per le elezioni non aveva minimamente dato esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale e quindi le persone che hanno il doppio mandato, il doppio incarico, sono ancora bellamente lì. Professor Vincenti, davvero grazie di essere stato nuovamente con noi. Spero ci ritroveremo anche l'anno prossimo. Ne sono sicuro. Se saremo ancora qui, davvero grazie. Le nostre chiacchiere sono terminate. L'appuntamento va a domani. Arrivederci. L'appuntamento va a domani. in the moonlight.